Basta! Fermo! In piedi! Che sta facendo? Agli ordini! Questi due soldati... usavano parole antipatriottiche. Capisco. Capitano, ha una tale abbondanza di soldati da poterne mettere due fuori uso? Non bastano! Presto! Altre munizioni! Io, signore, non ho saputo difendere i suoi baci. Mi permetta almeno di morire, onorevolmente, con i miei uomini. Il capitano Tanida chiede di avere altre mitragliettrici. Per noi è finita. I miei soldati inutilmente... Ho promesso a me stesso... Ho promesso a me stesso di combattere fino alla morte per la mia famiglia. Ma pensare a loro... mi rende difficile mantenere la promessa. Fammi un favore. Resta qui. Brucia tutti i documenti e la mia cassetta mi invitare. Non c'è due senza tre. Non c'è... Grazie.